Questo è il Grunasin, ovvero Lago Verde. Si trova nel sud-est dell'Austria, a una profondità di circa 12 metri ed esiste solo d'estate. Durante la stagione calda, infatti, lo scioglimento dei ghiacci delle montagne vicine fornisce risorse idriche abbondanti che si accumulano qui. È stata meta di molti subacquei, perché sotto la superficie si nasconde un'altra particolarità, un parco. Pancchine di legno, stradine sterrate e arredi urbani sono fruibili da tutti durante l'inverno, mentre vengono sommersi gradualmente dalla primavera all'autunno. L'acqua è limpidissima, permette una visibilità fino a 40 metri e ha una temperatura di circa 6 gradi. Purtroppo, la immersione e le altre attività acquatiche sono state proibite dal 1 gennaio 2016, per preservare il posto dell'inquinamento e dai danni dell'eccessivo turismo. Purtroppo, la immersione e le altre attività acquatiche sono state proibite dal 1 gennaio 2016, www.infitylant.com.br Accidenti Locatori Comic studi good